musica 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 ma hai ricordato? perché io mi ero dimenticata completamente ho detto cosa sei dai ma sono già iscritto sono già iscritto oggi oggi non sarà la stessa cosa correre senza di te non mi superi no? ti aspetto 15 km non esagererò mi dodo quello che posso fare posso con l'auricolare corri oggi no 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 vado vado ciao 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 buongiorno ragazzi ciao 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 teffi ciao 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 siamo a posto cioè non siamo a posto, non proprio completamente ma... si, ma si va a essere in fronte niente, sei in jeans? si, non... non fai neanche la quattro beh Roby, che è successo? sei in borghese? non ho capito che mi fa male allora, non c'erà non c'è problema ripartare quello che io ho dato il pronostico su Giorgio Calabra anche qui, ho sbagliato qualche tempo Giorgio grazie a tutti non c'è problema perché passate tutti sulla pedana poi dopo la scatenatevi quando vi danno il via come ha detto Luciano Massanti ciao 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 EZ! Niente, niente, riprendo Ciao! Ciao! Te lo devo correre Siletti? No, ti te lo messi qua! Ciao, vai! Ok, 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 ok! Ok, ok, ok! Stefano, sport e coraggio! Ok, ok, ok! 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 Ok! Ok, 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 ok! Questa è la ventuguesima donna E' massi Grazie. 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 Grazie.